Bum bum C'è Da Csss 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 Wey Robin che musica mi consigli Per i miei video online Wey Robin che musica mi consigli Per i miei video online Che mi suggerisci? Io ho preparato una collezione di quasi 70-80 pezzi Che vanno bene come colonne sonore di video Che a me piace molto come stile questo hip hop deviato Che si chiama Head Bob Testa Bob Head Bob Se tu cerchi su Google o su SoundCloud Best of Head Bob Robin Good Troverai una compilation di più di 70 pezzi strumentali O quasi strumentali Che potrebbero andare benissimo per le tue colonne sonore Questi pezzi, questi brani Non sono gratuiti Ma non sono neanche costosi Perché se tu li vai a sentire sul SoundCloud Li puoi ascoltare quante volte vuoi Gratuitamente Ma se li vuoi usare come colonna sonora dei tuoi video Sarebbe corretto da parte tua Sarebbe soprattutto carino Da parte mia e tua Di dare un contributo a quelli che l'hanno creata Come si fa per fare questa cosa? Una volta che tu trovi un artista interessante Vai su bandcamp.com E cerchi il nome di quell'artista Vedrai che nel 90% dei casi ha una pagina Ti dà la possibilità Cliccando le sue canzoni Di poterne comprare una Di solito per poco meno Poco più di un euro O di comprare tutta la sua collezione dei pezzi Per cifre solitamente molto abbordabili Se non li trovi lì spesso li trovi su itunes.com E ripeto Per un euro o poco meno Puoi comprare un brano che ti serve come colonna sonora O dagli un pochino di soldi in più E comprarti tutta la loro collezione Che di solito è disponibile Sulla loro pagina su bandcamp Se non ti piace il genere musicale che ho raccolto Che si chiama Head Bob Ti do due consigli per due siti Che hanno un sacco di brani strumentali Ottimi per fare da colonna sonora ai video Trovi qualche decina di brani ben organizzati per categoria Te li puoi ascoltare Se ti piacciono te li puoi scaricare Utilizzarli gratuitamente Senza dover pagare assolutamente nulla Uno si chiama Bandsounds.com Ottimo anche per mini promozioni Pubblicità Tutorial, demo e via dicendo E l'altro si chiama Jerry Con la Y Music.com Bandsounds Jerry Music Ma ho qualche sorpresa in più Ci sono altri strumenti che ti possono consentire Di creare delle colonne sonore Su misura Per il tuo video Ce ne sono tre in particolare Che ti voglio consigliare Il primo si chiama Filmstraw No, non è una parolaccia Filmstraw.com È un software scaricabile per Mac e per PC Lo puoi provare subito La cosa fantastica che fa È che ti consente di caricare il tuo video E di costruire Lui dice di scolpire in maniera precisissima La colonna sonora che vuole intorno Proprio ai momenti cruciali del tuo video Su Filmstraw scegli prima di tutto Un template musicale adatto Con l'atmosfera e il tipo di emozioni che vuoi E poi puoi controllare specificamente Tre elementi Il momentum La profondità E la potenza Questi tre elementi sono Tre variabili della musica che hai scelto Che puoi controllare Con un grafico semplicissimo da usare Dove puoi determinare in che punto della musica Dargli il massimo climax E dove invece renderla più tranquilla e quieta Lo puoi provare innanzitutto gratuitamente Ma se decidi poi di usarlo Costa soltanto 15 dollari al mese il pass mensile Valle a vedere Filmstraw.com Secondo tool fantastico per creare musica su misura per il tuo video Si chiama Jukedeck.com Cosa ti consente di fare? Anche qui puoi caricare dei template musicali già pronti E totalmente modificabili Cioè tu gli puoi dire Guarda questa musica mi piace Ma non la voglio di un minuto e mezzo La voglio di 26 secondi Voglio che il momento di massimo climax Di massima intensità Sia a 17 secondi E voglio controllare anche Quante battute al minuto esattamente va questa musica E lo stile e gli strumenti che ci sono dentro Non ci credi? Vallo a provare adesso Vai su jukedeck.com Clicca in alto a destra su make E prova con i tuoi occhi Puoi scaricare i brani in mp3 gratuitamente Semplicemente dando credito a jukedeck O puoi pagargli 99 centesimi E non dire niente di dove l'hai fatto Infine super divertentissimo Il terzo tool che ti consiglio di andare a scoprire Si chiama Ujam.com Ti dà la possibilità di cantare nel microfono Registrare una tua piccola melodia In diretta O di caricarla dopo averlo fatto E Ujam costruirà una base musicale su misura Per supportare il pezzo che hai creato Cioè ti creerà un'orchestra Un arrangiamento Un gruppo musicale Che accompagna quello che tu rappi Canti o dici Valla pena di andarla a trovare Veramente eccellente Puoi condividere su facebook Twitter Soundcloud O scaricare il tuo pezzo Quando l'hai completato In mp3 Non devi pagare niente Se queste soluzioni Non dovessero bastarti Ho preparato una lista Di più di 20 tool Servizi e siti web Dove trovare musica ideale Da usare come colonna sonora Dei tuoi video Basta che vai su bit.ly.com Slash Music for video Buona musica! Music for video